Ciao bambini! Ciao ragazzi! Pronti a vivere intensamente con noi questo tempo di avvento che ormai si sta avvicinando? Quest'anno abbiamo pensato di prendere in prestito dal mondo dello sport i valori e le virtù che vogliamo mettere in campo per affrontare insieme questo tempo di emergenza che stiamo attraversando e prepararci al meglio al Natale. Papa Francesco ci ricorda che lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci aiutano a migliorare come persone. Come l'atleta durante l'allenamento la pratica sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a scoprire senza paura i nostri limiti e a lottare per migliorare ogni giorno. Lo sport educa essere leali e onesti, a coltivare la semplicità, il senso di giustizia e l'autocontrollo, tutte virtù non solo di chi pratica lo sport ma più propriamente dell'uomo. Nell'anno in cui si sarebbero dovuti tenere i giochi olimpici a Tokyo, rinviati al 2021, come segno di buon auspicio ci faremo accompagnare proprio dall'immagine della bandiera olimpica. Essa è composta da 5 anelli colorati che si intrecciano e che rappresentano i cinque continenti. Mettono in evidenza il senso di fraternità e amicizia tra i popoli e di concordia e pace tra le nazioni. Ci lasceremo coinvolgere in una sorta di gara universale in cui ognuno di noi cerca di dare il meglio di sé per il bene comune e si impegna a mettersi in gioco fino in fondo nell'incontro con gli altri in attesa di vivere e festeggiare tutti insieme il Natale. E a proposito partecipa anche tu all'iniziativa Dai il meglio di te. In questo tempo di avvento chiediti in che cosa sento di aver dato il meglio di me? Raccontacelo con un disegno, una foto, una poesia, un testo scritto o comunque esprimilo nella modalità più bella e più creativa che conosci e inviacelo all'indirizzo ufficio.catechistico chioccioladiocesifossano.org ma mi raccomando entro e non oltre giovedì 31 dicembre. Tutti gli elaborati saranno condivisi sulla nostra pagina facebook e pubblicati sul nostro sito diocesano. I più significativi verranno pubblicati anche sulla settimanale La Fedeltà. Ma la vittoria più bella sarà sicuramente quella di aver contribuito a rendere questo tempo e l'ambiente in cui vivi più bello e accogliente per Gesù e per tutte le persone che ti sono vicine. Ogni settimana, se lo desideri, potrai percorrere con noi un tratto di strada grazie a un breve video che potrai guardare da solo o con la tua famiglia. Attenzione però, sarà un percorso bello e coinvolgente ma anche molto emozionante con cartoni animati, interviste, canzoni e video davvero toccanti. Pensi di potercela fare? E allora vieni con noi! Ti aspettiamo! A presto! Signore, è bello per me correre coi miei amici, nella gioia e nella fatica, nella vittoria e nella sconfitta. Là, sul campo, ci metto tutto me stesso perché per me giocare è come vivere e vivere è un po' come giocare. E se penso alla mia vita, come a quel campo di gara, allora, signore, aiutami a viverla con lo stesso entusiasmo, con lo stesso impegno, con la stessa voglia di vincere e di diventare grande. Sì tu la mia guida e il mio maestro, insegnami a giocare la mia partita, indicami il mio ruolo in campo, incoraggiami a lottare e dare sempre il meglio di me stesso. E quando sarò tentata di arrendermi e di non combattere più, ti prego, abbandona la panchina ed entra in campo con me. Con te vicino ricomincio a giocare. Amen. Grazie a tutti.